Ciao, sono Riccardo Lodoli, leader dell'infoltimento non chirurgico e questa che vedi non è una parrucca ma è una patch cutanea e come vedi ci puoi fare sport. Con l'infoltimento non chirurgico e una manutenzione strong l'impianto non si stacca, nemmeno in piscina e d'estate prenota anche tu una consulenza gratuita.